a dare con giovanni a fare una spesa qualunque e come andare con tuo figlio di dieci anni che ti deve prendere il resto degli spiccioli e quella mancia meglio niente devo prendere quello sia ma no non mi far domanda di cui si è preso ale ora no 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 dobbiamo dire perché sono convinto che ho capito nulla perché c'era gianni con me stava la mia ma non c'è a dire qualsiasi cosa e infatti grazie vuoi prenderla con un meno nonchalance e latini dritta non sta vedendo va bene torciuto come pensiero tu c'è storto come il pensiero tu allora siamo alla vigilia della partenza manca veramente poco dovevamo necessariamente imbottirti un po perché altrimenti andavi là a prendere freddo poi anche lavoro ospedale direttamente calze maglia termica pantaloni termici accappatoi ciabà scappi quello che ci diciamo abbiamo preso tutto volontà non ti mancava mai né dall'inizio figurte se non l'abbiamo presa adesso è vero non è vero è vero è vero è vero è vero conferma addirittura ha chiuso l'lcd per vedere nel viewer capito nel canocchiale mamma mia la tua professionalità mi fa quasi commuovere e dico quanto vuoi quanto vuoi per questo servizio abbiamo fatto un bel ragionamento stamattina a sì che cosa è una collaborazione con antonio se io dovessi stringere io dovrei andare ricoverato un giorno sì un giorno no lui per la medicazione io per la disintossicazione sì qual è ad esempio le case le due case di via nicolai quelle di garuba tra la vita perché se no io vado a sparare la persona ragioneremo su questo vuoi addrizzare la cosa beh che cosa dobbiamo fare me le gestisco io nel senso che se c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa perché puoi fare una fai la cupa l'altro fai mi sembra giusto così c'è produttore consumatore perché tanti ci crederanno e scriveranno sotto tu pensi di no invece ti dico di sì 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 tanti scriveranno così sapevo sarebbe andato a finire così come quelli che hanno scritto da vai a dormire a casa di lo conte ma lei che stai tante volte vai a va bene hai sentito l'ultima cosa giovanni sai dove devi andare a chi devi incontrare a che ora è tutto a posto tutto stabilito perché poi siamo più tranquilli non sapete tu ovviamente quando arrivi dacci un colpo un messaggio sta a posto va bene devo dire la verità è stato una bella collaborazione io ti ringrazio personalmente per tutte le volte che ti sei fatto avanti dandoci una mano io ringrazio voi scusi se mi sentite da un poema è sottinteso tu non sei ancora fuori dalle palle ok quindi devi aspettare dai con calma quindi alessandro va via no tu sei fuori dalle palle alessandro no alessandro comincia una nuova vita no alessandro sa che ha sempre un punto di riferimento quel discorso li hai capito parlando di di palle hai capito a no lasciate no ma adesso adesso manco qua dicevo poi non interrompermi per piacere non ti sei tolto dalle palle perciò non puoi avere ringraziamenti perciò alessandro significa che stai facendo un discorso che non c'entra niente no stiamo pensando già al prossimo natale che palle prendere quelle trasparenti ora volevo veramente ringraziarti perché sei stato tanto discreto quanto d'aiuto per tutte le cose che abbiamo fatto finora quindi te la sei guadagnata la pagnotta è stato bello poterti dare una mano e quindi sono fiero siamo fieri che adesso si dice prendi il volo però vai col treno la stessa cosa perché possa tu farti una tua vita possa godertela finalmente senza troppe pressioni senza troppi patemi sono veramente molto io ringrazio ripeto tutti tutti molto con tutti in maniera specifica poi no vabbè non devi nel senso che è stato un piacere poterti stare accanto perché era reciproco tu no tu sei una iattura tutte le dì tu sei una iattura tutti i giorni alessandro ciao buon viaggio buon viaggio ti sei una iattura tutti purtroppo oh e vabbè üç Grazie a tutti.